e ciao a tutti amici siamo i cugini cretini in un nuovo questo è il torneo che si chiama cugini cretini e questa è la finale FC Bayern contro Borussia Dortmund e io ho perso contro io sono il Borussia Dortmund e mio cugino cretino anche lui come me è il Bayern Monaco e iniziamo vai e muoviti io ero dal Milan in questo momento allora ti dico subito che io ti straccio perchè sei una piffa non è vero questo si vede lancio lancio il futuro sicuramente è benedito adesso che sei stato eliminato al primo turno lo so che sono stato eliminato la lama di merda non dovevo scegliere il Milan dovevo scegliere il Manchester City oh oh ragazzi che passaggio filtrano la prende la prende no la tira la prende la prende ma che 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 fai il telegronista eh non puoi eh invece non puoi allora va a cagarlo allora non lo film Brascikowski dai finì ti sposo se sei in me vai spiederlo nei buatei e la passa per Frank Ribéry Mario Gomez fuori il Gomez e la passa per Muller Muller fallo e Muller muore cartellino rosso no cos'è giallo giallo gli ha dato una sottilezza ragazzi gara ma vai a cagare in mezzo la buttate i culi agli esplosioni ti annettiari il culo dai che gliela passa la ma tu è la grandissima parata di Vodafella no eh niente fatto la alaba ha la lava la prende no la prende raga scusate per il casino ma c'è un demone che è un demone è vero sta fanno i piatti le tasse di tutto e te li rompe e te li rompe odio no le dice le due no e te te stop no 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 continua la partita oh che passaggio fidanzissimo per Mario Gomez numero 30 ragazzi io la passaggio ma vai a cagare il culo in dubena ma vai a cagare in culo in dubena pisciac pisciac nel culo di dubena no no pisciac pisciac boh mi sa attenzione mamma mia ragazzi il difensore il difensore la rifiore voglio vincere sto cazzo no ok ragazzi gliela passa per per una merda che flocida che flutua che flutua che flutua quella merda no schmerzer wotah 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 alla maionese qualcosa del genere se la prende un'altra prende un'altra sottiletta gliela da al ragazzi alla qualità video a me piace troppo toni 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 di merda come ma vabbè mi ammazzano perchè ho scelto il milan perchè sei milanista tutti milanisti tranne anche te io sono juventino e siamo campioni d'italia per nino sì certo un cross segmentali per Ale che cacchio ma cosa ci sei bevuto oltre al perfumato cioè due canne eh sì 400k oh la peppa 400k un due canne coso cartino dalla distanza merda no ehmmanuel fotomodelle ahahah ahahah guardate il portiere il portiere se li mangia come se fosse un abbraccio oddio ho paura no no sì no che cazzo ho fatto scusatemi sì ho sbagliato solo una merda a volte si vede si deve muodere eh si deve muo- ahia si deve muo- ahia no si deve stai testo 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 cazzo testo testo per esempio l'impostanza mario gomez mario cazzo cross 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 la roma dei cross orribili io luco pede e' gara guarda il giocatore che mi si incrazia con dappertutto guardate che passaggi di merda che aspetta mudogan cazzo oh ma perchè vai avanti io andrei a ma dai rinquadra sto coso ragazzi scusate se il video uscirà male però iniziato il secondo tempo ragazzi io l'ho detto che non volevo fare il registro il registro no il cameraman il cameraman ok ok prendi la noia guarda che è preso cosa fai scusate guardate ragazzi oh ragazzi questo non vuote non vuote fai stai da tetesken puro spai stai da non ce la farai mai cosa fai ma scusa abbiamo un camera ho dato una giusta guarda meno arrivi l'arrivo anche un'idea non 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 3 3 no finalmente e'era lui il diavolo marco rois dai è un tiro! è portata giù dai aria rocca che ti guardate il tiro guardate il tiro guardate la palla guardate la palla seguimento non è l'unico non è l'unico non è l'unico mamma mia il voluto della merda il voltino e la pepa e se appena viene frutto il papà non ci andiamo finale perchè si dobbiamo andare anche Alessandro se ne va no Luba ci mancherebbe ma si volete rimanere il tempo che ti lascia mangiare loro non lo so non lo so dai veramente dai fanno l'estate ma che è stanca ma che è bello questo non è stanca ma basta allora dentro allora mi che fai ma dai fanno tempo se vuoi rompere le palle ti entro la faccio fatta anzi anche perchè io non volevo nemmeno farlo tira scusate se il cameraman litigava con sua mamma tira tira veramente stavo parlando con loro dai dai guardiamo attentamente tutta questa cosa tutti i drogati domani tutti babature ha vinto Alessandro così saranno io lo so il miglior giocatore dell'anno eroi ragazzi come al solito mettete commento mi piace se non siete ancora iscritti iscrivetevi e noi ci rivediamo nel prossimo video aspettate ragazzi noi noi due noi due visto che abbiamo facebook vediamo i nostri indirizzi io qui nel link in descrizione vi mandiamo tutti i miei il mio il mio nome su facebook e il suo ve li mandiamo qui in descrizione e se non siete ancora iscritti iscrivetevi e noi ci rivediamo nel prossimo video ci rivediamo ciao grazie a tutti e ciao e ci rivediamo ciao gente